e bella tutti ragazzi sono sempre io samuel lebon in questo nuovo video pazzesco oggi nuova tier list ma vi invito subito a lasciare like iscrivetevi a questo canale siamo ormai a 14k puntiamo i 15 e puntiamo sempre in avanti mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi perché è molto importante e soprattutto lasciate quel cavolo di like mi raccomando allora oggi tier list interessante perché non andrò a parlare dei singoli giocatori come fatto in altri tier list dei tots che vi invito ad andare a vedere ma parleremo più sulla sculata cioè su voi aprite un pacchetto o il pick della vl andremo a valutare la sculata quindi dalla c non è buono dalla b in su comunque un buon giocatore in b possiamo dire che comunque ti potremmo andare peggio a ti è andata bene s hai sculato ok s sta per sculato s sta per sculato quindi io direi di subito iniziare se non avete visto i vecchi video sui su tutti i tots quindi ho già valutato questi giocatori singolarmente andate a vederli mi raccomando quindi oggi valuteremo solo per quanto riguarda l'ho trovato nel pacchetto o nel pick ripeto quindi non come gli altri come le altre tier list quindi andiamo subito a vedere il primo giocatore che è il buon Alexander Alexander Arnold e sono molto indeciso e metterlo in B o in C ma a sto punto via di mezzo lo mettiamo tra B e C carta normale nella media in game molto molto buono però personalmente se lo dovessi trovare in un pick o in un pacchetto è il giocatore che mi è andato peggio anzi forse vi dirò lo metto in C guardando altri nomi lo metto in C personalmente quindi carta sì carina ma ti è andata male perché comunque è una carta in game che sul mercato trovate da poco anzi è uscito due volte quindi vuol dire che ancora cala sempre di più quindi carta direi che ti poteva andare molto molto meglio il secondo giocatore è il buon Bellingham un altro inglese lo metto in S ragazzi carta veramente molto forte da trovare personalmente forse uno dei migliori centrocampisti del gioco se non il migliore quindi direi sculato molto forte molto forte quindi direi di passare oltre Beller l'ho sculato quando costava due milioni e mezzo ormai è sceso un botto poi col fatto che comunque è riuscito cala sempre di più però Beller personalmente lo metto in A non è da S per il semplice fatto che secondo me tra le punte c'è di meglio però come carta direi molto forte grandissima agilità giocatore molto molto buono ovviamente come ho già detto nel vecchio video a me personalmente non piacciono gli attaccanti così bassi fisicamente però se vi piace se non mi dà fastidio in game è tanta roba molto molto agile Benzema il Karim direi da S senza stare qua a discutere carta comunque dalle statistiche paurose molto completo 98 ragazzi quindi direi un giocatore quasi perfetto quasi perfetto Cancelo Cancelo ragazzi lo metto in B perché sì è buono però diciamo la verità se lo troviamo in un pacchetto siamo contenti ma cavolo portoghese potevamo trovare Ronaldo e Cancelo secondo me non è neanche da B diciamo ti poteva andare molto peggio bella carta ma ti poteva andare molto peggio Kevin De Bruyne K di B secondo me è in A ti è andata bene molto bene sei contento di averlo trovato ovviamente non è il miglior giocatore del mondo buon centrocampista basta sei contento perché l'hai trovato ti poteva andare molto peggio quello sì ti poteva andare molto peggio peraltro trovai il Toti quando costava 2 milioni qualcosa di più forse 3 adesso non mi ricordo no 2 milioni qualcosa sicuramente vabbè comunque bella carta però personalmente Teo Hernandez invece vi dirò A perché secondo me rispetto a Cancelo che ha già due versioni quindi uno può anche scegliere Teo Hernandez è più unico quindi sei più contento secondo me se trovi Teo Hernandez rispetto a Cancelo poi secondo me forse anche più forte Teo Hernandez di Cancelo vi dirò Cancelo magari più completo come giocatore però come terzino puro forse è meglio Teo Hernandez se devo scegliere se devo scegliere tra tra questi due Kimmich Kimmich ha in me secondo me lo metto in B cioè buona carta eh assolutamente buonissima carta però se lo trovi poi dici cavolo potevo trovare Nkugu in Germania no? è pur sempre 97 ragazzi statistiche comunque importanti quindi carta comunque molto carina però ti poteva andare molto meglio nel pick barra pacchetto Kulibaly ragazzi Kulibaly personalmente non lo amo come difensore lo metto in B perché a livello di prezzo di tutto quanto non è neanche così proibitiva come carta però è andata molto bene anzi lo metto tra A e B perché comunque come carta ci sta secondo me però per il prezzo che ha dici vabbè ci sta ma amen Lewangolski ragazzi Lewangolski lo metto in A e B personalmente non mi fa impazzire carta molto esotica però abbastanza costosa per la carta che è carino ci può sta la utilizzi stesso discorso che di Kulibaly non mi fa impazzire però ci può stare carta comunque molto importante Luca Spaketa lo metto in B ragazzi bellissima carta però personalmente non oddio costa anche costava più di un milione quindi una carta abbastanza costosa vi dirò forse rispetto a Chiuameni è meglio trovare Luca Spaketa quindi me lo metto in A stavo pensando a questo forse tra i due centrocampisti che ci sono Ligan Spaketa forse è sicuramente meglio più completo può fare più ruoli Chiuameni magari un po' più limitato al centrocampista e costa anche meno quindi forse Chiuameni lo mettere in B ecco quando uscirà Magnan da C ne ho già parlato di questo portiere comunque dei portieri in generale non c'è il portiere fenomeno però Magnan è questo personalmente lo metterei in C carta è la carta che costa di meno che potete trovare in questo Tots Ultimate quindi sinceramente anche no direi che se trovo questo nel pick vabbè è difficile che scelga Magnan però se lo dovessi trovare anche in un pacchetto direi cavolo ho trovato l'unico francese che non vale nulla quindi lasciamo stare Marquinhos secondo me è uno dei migliori difensori del gioco però in S direi sculata è sculata anche là non è che però sei contento di aver trovato Marquinhos però ci potrebbe andare molto meglio sì sei contento però sei contento vabbè meno S di non discutere sul Killian carta formidabile paurosa assurda costa anche un botto quindi direi assolutamente sculata Modric da B personalmente carta carina si può utilizzare quindi quando la trovi sei anche tutto sommato sei anche soddisfatto perché comunque puoi provarla carta neanche troppo costosa a livello di statistica è messo bene è un po' un pirlo forte cioè è una versione di pirlo forte però pecca ovviamente di fisico manca un po' di difesa però personalmente come carta ci sta è pur sempre un tozze 97 quindi insomma le statistiche ci sono un cucù personalmente l'ho trovato proprio oggi cioè dopo la promo ho aperto dei pacchetti però in un pacchetto schifoso quello dei premi della qualifica del Food Champions vi rendete conto un pacchetto un pacchetto penso da 15k neanche trovato in cucù adesso personalmente l'ho trovato sui 800 900k all'inizio costava molto vabbè comunque carta veramente molto forte può fare qualsiasi ruolo facile a debilidare con il fatto che è francese boh tanta roba secondo me come carta quindi direi assolutamente sculata sicuramente quello che costa meno tra gli altri però niente a dire altra sculata ovviamente Raphael Leao ho letto molte critiche sul buon Raphael sicuramente alcuni secondo me l'hanno comparato a il Kylian della situazione a Mbappé o a Ronaldo cioè personalmente non è costa anche meno ragazzi di Ronaldo e Mbappé e ci sarà motivo non vi aspettate la stessa qualità di Mbappé di Ronaldo perché costa meno quindi carta comunque molto forte sculata assolutamente sì ragazzi assolutamente sì e vabbè un altro S ragazzi Ronaldo senza star qua a discutere carta formidabile ha tutte statistiche assurde l'unica magari pecca un po' il passaggio ma neanche tanto perché in game non risulta neanche essere così male Ruben Dias questa è la versione più scarsa rispetto al Toti personalmente ho paura che questo sarà il trio di almeno uno dei picchi che troveremo ragazzi perché è abbastanza palese che troveremo almeno uno di questi nei picchi questo trio lo troveremo spesso è proprio il trio delle carte che nessuno vuole in questo Tots Ultimate ma troveremo questo trio qua ne sono abbastanza sicuro però va bene lo stesso Ruben Dias carta carina però insomma se devo scegliere tutti questi non prenderai mai Ruben Dias personalmente Salah Salah guarda ragazzi a me non mi fa impazzire però da S cioè è sculata cioè la tipica sculata è il bello ragazzi che in questo Tots Ultimate ci sono tante sculate cioè ci sono tante sculate però sarà difficile trovare sculare è quello il problema Chouameni stesso discorso di come avevo detto prima insomma è un pochino inferiore rispetto a Luca Spacheta però lo metto in B perché comunque se lo trovate è una bella carta anzi io se dovessi scegliere se lo trovo nei pick lo prenderei personalmente se mi riesce fate conto un pick con Ruben Dias Magnanne prendo Chouameni prendo Chouameni tutta la vita quindi comunque carta tutto sommato molto carina piacevole piacevole Van Dyke personalmente lo metto in C peraltro adesso è crollato di prezzo costava quasi 600 adesso sta sui meno di 300 quindi ha perso la metà carta normale pecca molto in velocità agilità un po' un tronchetto secondo me non è neanche in meta Van Dyke quindi comunque se lo trovate potete anche prenderlo ecco però non costa neanche così tanto sul mercato quindi non so se vale la pena ultima carta ragazzi Vinicius Junior assolutamente da S carta formidabile l'ho trovata anche contro mi ha fatto il Q e assurda come potete vedere ci sono tante sculate in A ci sono tanti giocatori buoni che se trovi sei contento in B ci sono come sono i giocatori che se ritrovi ti potrebbe andare molto peggio e in C sono i giocatori che personalmente eviterei però sono sicuro che almeno uno dei 4 giocatori che abbiamo messo in C li troveremo per forza e li dovremo prendere almeno in 2 pick almeno io spero almeno se proprio proprio almeno FIFA non farmi sculare di nuovo Bay & Dern perché ce l'ho già non scambiabile ecco al massimo in Cucu così mi invendo l'incucu che ho già trovato vabbè comunque buona sculata a tutti niente magari dite la vostra sotto i commenti se avete già aperto i pacchetti magari scrivetemelo se avete trovato qualcosa se avete sculato le pick mi raccomando ci vediamo alla prossima ciao